Musica Nelle mie spalle sta cadendo una, ma neanche tanto una simulazione di lavoro, nel senso che i ragazzi sono qui all'opera per diciamo portare a termine quello che è un progetto scolastico e ovviamente come giornata formativa è stato deciso di venire qui in Rite Veneta per far provare a loro tutte le strumentazioni necessarie per far vedere chiaramente un po' un vero posto di lavoro Teoria e pratica, le due facce di una corretta formazione scolastica e professionale si fondono per gli studenti dell'Irigem di Rosà che oggi sono stati i protagonisti negli studi di Rite Veneta Quindi loro stanno mettendo in pratica quello che in aula abbiamo sempre fatto a livello non solo teorico, anche attraverso delle simulazioni ma qui hanno modo di toccare attraverso una regia, attraverso uno studio, quello che noi abbiamo spiegato in classe quello che gli è sempre stato detto, ovviamente diciamo che non è solo un discorso di competenze quindi non è solo un discorso di so utilizzare uno strumento piuttosto che la videocamera, piuttosto che la regia o quant'altro un mixer, ma anche quello di sapersi organizzare, quindi di lavorare in gruppo e quello di organizzare e dirigere i propri compagni a livello proprio lavorativo Per i ragazzi che hanno affrontato l'esperienza con entusiasmo e impegno una giornata speciale In particolare ho collaborato nella regia e poi ho fatto la mia presentazione per il mio curriculum e ho anche utilizzato la telecamera Siamo andati in un'altra parte, in un modo del lavoro che è diverso da quello scolastico che così impariamo anche ad essere più agevolati per uscire da scuola Grazie